allora un caro saluto a tutti quanti ho preso questa immagine un po casuale di office per parlarvi appunto dell'evoluzione di questo brand addio a office abbiamo parlato recentemente di un video in cui appunto salutavamo in modo definitivo windows 7 in questo caso è un addio parziale perché microsoft chiude il concetto di office ma non del del pacchetto di office ma chiude il concetto di office mantiene la logica di 365 e cambia diciamo così il il futuro delle proprie applicazioni mi spiego un po meglio office 365 è il pacchetto di applicazioni che permette a costo di un pagamento mensile o annuale sono gestita un po come volete per aziende specialmente per le aziende ma anche ovviamente per i privati e vi offre i classici word excel quello che non avete voglia a oltre a questi pacchetti chiamate appunto office in realtà per le aziende il succo il fulcro centrale il perno del concetto appunto attorno al quale ruota office è in realtà tutt'altro perché la parte 365 importante come la piattaforma azure quindi exchange quindi sharepoint quindi tutta una serie di applicazioni molto particolari che trasformano le vostre aziende da quelle che possono essere qualche cartella condiviso in produttività molto più avanzata che trasforma un vetusto centralino che potreste utilizzare in un avanzato sistema di chat chiamate attraverso teams attraverso la condivisione di lavoro guide scambio di file completamente diversi rispetto a quella che potrebbe essere una cartella condivisa su un server una cartella su uno su un cloud class un cloud generico non ovviamente 365 non entrerò nei dettagli di tutta questa cosa qua ve la sto buttando per farvi capire il mondo che c'era c'è attraverso attraverso 365 molto schematico ma microsoft sceglie di fare un passo di branding molto importante perché come vi dicevo appunto per noi noi anziani noi ultra quarantenni che abbiamo vissuto office come il prodotto portato da microsoft che in realtà perché ha rubato quello che era lotus nel senso che i come si chiamano i programmatori di office hanno portato via pezzi di lotus semplicemente perché quelli la non avevano registrato i loro brevetti e di conseguenza sono arrivati in microsoft e arriva misteriosamente subito dopo office ma non è polemica me ne frega assolutamente nulla di lotus non mi frega assolutamente nulla di office però l'office degli anni 90 l'office fino all'arrivo di microsoft 365 era di fatto qualcosa nativamente offline il microsoft 365 è qualcosa che nasce come prodotto principalmente online quindi lo potete sfruttare quando siete offline ma dà il meglio di sé quando siete online il fatto che perda il nome è un dato importante perché non è più l'office al quale noi leghiamo ripeto questo classico numero di pacchetti di produttività classica appunto delle delle piccole medie ovviamente grandi aziende diventa microsoft 365 perché questa cosa qua del microsoft oltre a quello che vi ho appena detto diventa ancora più importante perché in futuro microsoft sicuramente trasformerà come già sta facendo anche windows all'interno di questo pacchetto ovvero di un'applicazione cioè windows sicuramente diventa applicazione online attualmente voi volendo potreste prendervi windows cloud che ha un costo anche quello mensile voi vi prendete una sorta di macchina virtuale con determinate caratteristiche con all'interno windows al momento parliamo di cifre folli per non aver dentro nulla parliamo di qualcosa che non ha quasi senso ma in realtà è l'aver creato una struttura pronta alla bisogna e sicuramente il windows 12 13 chiamatelo come ne avete voglia voi perché probabilmente già il futuro di windows 11 potrebbe essere questo potrebbe anche non esserlo è appunto comunque orientato ad un'ottica online un'ottica online che esattamente al pari di 365 potrà essere sfruttato totalmente offline nel momento in cui voi ci volete lavorare ma anche totalmente online nel momento in cui voi avrete la connessione ad internet oggi è difficile non avere una connessione ad internet ma è assolutamente plausibile non averla temporaneamente non averla per mezz'ora un'ora mezza giornata una giornata perché posso non essere in una zona raggiungibile nonostante tutte le tecnologie del mondo e questo andrà avanti al di là dell'italia che insomma è una situazione abbastanza desperados ma in generale uno può che ne so andare in alta montagna andare che ne so in una zona non coperta da internet e di conseguenza se uno vuole lavorare soprattutto oggi che il lavoro fuori dall'ufficio ha sempre più importanza potrebbe non avere possibilità di accesso ad internet quindi la sincronia dei file il lavoro comunque che possa avere una certa importanza anche offline è ovviamente fondamentale questo pacchetto questo diciamo piccolo cambio di nome ovviamente porta in dote tutta una serie di migliorie e tra questo per tanti che comunque dicono sì ma io nella mia azienda preferisco non passare a 365 ma comprarmi la versione stand alone attualmente non vi dovete preoccupare perché chi sceglie questo tipo di soluzione vi dico soltanto che su windows 11 è ancora supportato office 2010 per dire e probabilmente anche le versioni precedenti credo non lo so a me è capitato di fare una prova e office 2010 ma secondo me addirittura non vorrei dire una scemata nel 2003 sono riuscito ad installarlo senza problemi ed è ancora supportato quindi funzionano pacchetti veramente iper vetusti ma ripeto c'è chi magari dice ok io voglio una versione stand alone e appunto me la voglio comprare e poi mia per sempre me la tengo per dieci anni sono fatti miei e ok chi sceglie questa cosa sappia che comunque office 2021 adesso ho trovato questa immagine del 2019 chi se ne frega office 2021 esisterà ancora quindi il pacchetto che appunto è il classico software tenete conto anche che costa tipo 500 euro quindi non è proprio a licenza non è proprio una sciocchezza tenendo conto che pagate circa un 120 insomma con sconti vari all'anno una licenza business per la vostra azienda quindi cioè giocatevela un attimo su quello che secondo voi possono essere delle scelte migliori anche perché comunque sono pacchetti diversi ma ci sono ancora questa cioè non ti ripeto nonostante microsoft si butti totalmente su microsoft 365 che ripeto sarà il futuro esiste ancora anche la possibilità di accostarvi le vostre licenze singolarmente vi ho detto tutto questo per chi appunto voleva un attimino capire meglio cosa significa l'addio a office perché comunque il brand cambierà ma naturalmente cambia tutto per non cambiare nulla come dicevano i come dicevano nel gatto parto bene io vi ringrazio come sempre ci vediamo alla prossimo video e ciao